Cosa è successo in via Mamele? L'unica cosa certa che c'è stata è che si è allagata la via, parte della via e si sono allagati alcuni negozi. Quindi bisogna capire se ci vuole un intervento privato o un intervento pubblico. Sicuramente quello che chiediamo è alle aziende che comunque vingono alle gare di essere un pochettino più, meno forse veloci, ma più precisi nei lavori. Perché lì comunque si sono fatti dei lavori e vanno risolti i problemi. Che la città abbia un pavimento fatto bene e che i negozianti non debbano trovarsi allagati alle prime acque. Non era mai successo così? Lì bene o male è sempre stato un problema perché ci sono 18 dislivelli e quindi il problema c'è. Noi come Ascom ci siamo rivolti a degli esperti, abbiamo fatto delle segnalazioni, abbiamo dato dei suggerimenti. Suggerimenti caduti a vuoto, naturalmente perché uno si fa forte la propria esperienza e non mettiamo in dubbio la capacità degli uffici e dei tecnici che hanno fatto il progetto. Però a oggi richiediamo appunto che forse è meglio sederci tutti a un tavolo con gli esperti e vedere cosa si può fare. Cosa diciamo ai negozianti di Via Mamere? L'amministrazione si è impegnata al massimo per realizzare una zona completamente rivista, per avere un'attrazione dal punto di vista turistico e anche dal punto di vista soprattutto commerciale. Sempre l'amministrazione con i denari pubblici ha fatto un investimento estremamente importante per quella zona. Dal punto di vista politico abbiamo dato l'input e stiamo facendo il massimo. Dal punto di vista tecnico, naturalmente a me dispiace anche per il singolo esercente che abbia avuto un solo euro di danno. Ci mancherebbe dato, ci sediamo, facciamo dei ragionamenti, devo dire che però non è successo assolutamente niente. Perché si parla di due esercizi pubblici che sono andati leggermente a bagno, però una via intera ha lavorato bene, è stata una bomba d'acqua inaspettata, non facile da controllare. Tanto è vero che anche le alerte hanno avuto delle estreme difficoltà. Si è parlato anche delle segnalazioni di alerta, all'ARPA, eccetera, c'è qualcosa di aggiungere? Che non è successo niente, grazie a Dio a Rapallo e non solo a Rapallo. Naturalmente sono temi estremamente sensibili e estremamente delicati ed è giusto non polemizzare su certe cose. Mi è solamente stato chiesto se era arrivata l'alerta o no, io ho risposto di no.